Ormai da tempo ho tra le mani Cercar Tesori, l'ultimo libro di Allegra Iafrate. L'autrice è una studiosa di storia capace di rendere appassionanti i suoi studi accademici raccontandoli come un film d'avventura. E in questo libro affronta il tema della caccia al tesoro. Se hai pensato a Indiana Jones è l'immagine giusta, cui Allegra ne evidenzia i due volti. Indiana Jones evoca immediatamente un personaggio doppio, da un lato capace, assolutamente competente, dall'altro però attinge a un immaginario molto più avventuroso e rocambolesco. Le stesse parole valgono per Cercar Tesori, un libro che unisce a rigore metodologico il fascino dei film di Steven Spielberg. Naturalmente dopo averlo letto mi sono ripromesso di dedicargli una videorecensione, ma a distanza di due anni non l'ho ancora fatto. In casi come questo, per uscire dall'impasse c'è un trucco che funziona sempre. Se un libro ti mette in difficoltà, invece di aspettare che passi, tematizza quella difficoltà e parla del libro attraverso il tuo disagio. I tesori nascosti mi affascinano da sempre ed è una passione che ha attraversato tre fasi. Da bambino ho partecipato a decine di caccia al tesoro e sono grato a chi ha allestito intorno a me un mondo dove i tesori erano raggiungibili decifrando gli indizi nascosti tra i mattoni rossi dell'oratorio. E' la fase della fede in cui leggi l'isola del tesoro come se fosse un libro di storia. Con l'adolescenza sono entrato nella fase iconoclasta. La domanda diventa come ho fatto a ingannarmi così a lungo. Quello di Stevenson, un romanzo, quel sacchetto con le biglie, l'avevano nascosto mamma e papà. Crescerò quando avrò imparato a guardare il mondo con freddo disincanto. Come espressione di questo nichilismo ha 19 anni pubblico. Il Santo Graal, la Torre Canavese, un gioco illusionistico dal gusto postmoderno. Il calice di Cristo è nel villaggio dove trascorro le vacanze. In realtà non è vero, è tutto un inganno. Il Graal non esiste, al massimo. Si trova nelle fantasie di Dan Brown. E poi scopri libri come questo, che ti spalancano la terza fase, quella del reincanto. Tutto quel cinismo va bene finché sei adolescente, perché i tesori esistono eccome. E il confine tra vero e falso è assai più sfumato di quanto sperassi. Allegra Iafrate dimostra, documenti alla mano, che dietro molte storie di fantasie ci sono memorie di eventi accaduti davvero. Quando a qualcuno capita di fronteggiare invasioni, pestilenze e altre catastrofi, può trovarsi a nascondere i propri averi e magari lasciare indicazioni cifrate per poterli ritrovare. E il libro lo documenta in maniera così rigorosa e competente da darmi le vertigini. Perché non riesco a recensirlo? Perché non posso raccontarlo con distacco? L'entusiasmo che mi procura il tema trattato mi imporrebbe una recensione brevissima. Wow! Il punto è che Allegra mi riporta a quello stato di stupore infantile senza chiedermi alcuna sospensione dell'incredulità perché fa appello alla ragione, alla filologia, al confronto delle fonti, mettendo tutto questo al servizio della meraviglia. Quando mi dico completamente abbagliato dal numero di stimoli tra queste pagine, naturalmente parlo di un limite mio, non del libro, come posso riassumere in pochi minuti le decine e decine di storie raccolte tra queste pagine? Una via d'uscita imperfetta e con tutti i suoi limiti è di estrarre una sola pagina e mostrarne gli abissi. Prendiamo sul serio le conseguenze di quanto scrive Allegra a pagina 27. Un piatto da portata, una coppa, una pietra. Quel che interessa qui non è capire cosa sia stato davvero il Graal, ma in quali tesori tangibili si possa incarnare. Una risposta affascinante la troviamo a Genova. Qui, nel 1101, viene portato un oggetto straordinario detto Sacro Cattino, che ancora si può ammirare nel Museo del Tesoro della Cattedrale di San Lorenzo. Il Santo Graal, insomma, è a due ore da casa mia. Seguendo le tracce lasciate da Allegra, trovo il manoscritto secondo cui nel 1101 fu ritrovato un vaso di color verde fatto a somiglianza ad un cattino, il quale toccò a sorte ai genovesi. E allora raggiungo Genova a cercare il catino di smerallo orientale, gemma consacrata da nostro Signore Gesù Cristo nell'ultima cena. Il Museo di San Lorenzo è uno scrigno di tesori che ricorda il Tempio del Graal, nell'ultima scena del film di Indiana Jones. Per non fare la fine di Donovan, non mi lascio distrarre dai tanti calici esposti e neanche dal piatto su cui Erode portò in dono a Salomè la testa di Giovanni Battista. Il Santo Graal è in una nicchia nascosta e davanti all'oggetto, al suo colore, alla suggestione storica che emana. Ogni cinismo adolescenziale, ogni distacco postmoderno, evapora come neve al sole. La cosa meravigliosa è che ogni pagina di questo libro è un invito a partire, ad approfondire, a stropicciarti gli occhi davanti alla miriade di metodi magici con cui i tesori sono stati cercati dalle bacchette magiche ai talismani, dai calcoli astrali ai pendoli del rabdomante. I giornali dedicati alle cacce al tesoro sono pieni di pubblicità di tecnologie magiche. Sensirod 2000, Signal Plus numero 2, Coin Master 6000D, fino al potente Ciscope. Come all'epoca di Cagliostro, chi guadagna di più nelle cacce al tesoro sono i venditori di pale. Ma l'autrice è andata avoltre, allegando al libro questa cartolina a una mappa testuale che sfida chi legge a scovare attraverso difficilissimi indizi un tesoro nascosto nel testo. Come dichiarò dal primo giorno, questa webserie è dedicata a chi crede che il mondo sia uno sconfinato museo delle meraviglie. Per chi professa questa fede, questo libro è la Bibbia. Come faccio a recensire la Bibbia? Allegra mi perdonerà se questa non è una recensione seria. Molte ne sono state scritte, molte se ne scriveranno. Io lo sto trovando preziosissimo per il lavoro che sto facendo sulla città di Roma e i suoi tesori. Insomma, questo non è soltanto un giro di giostra pazzesco, ma anche per chi ha il mio sguardo un invito a conciliare ragione e meraviglia, competenza ed entusiasmo, passione e rigore. Grazie Allegra per il modo in cui dimostri quanto siano fertili queste apparenti contraddizioni. Il tesoro sei tu.